stare insieme fa bene soprattutto quando si trascorre una serata in buona compagnia unita buona musica e a cucinare sono i volontari che per la serata sono diventati chef formidabili in nome di un nobile scopo quello della solidarietà e quanto è successo sabato sera sulle pendici di monte giove un luogo elegante e di sconfinata bellezza in cui si fondono inclusione lavorativa autonomia abitativa agricoltura e turismo dove si è svolto il consueto appuntamento di raccolta fondi estivo organizzato da open house siamo una ventina di volontari di cui 7 8 che in questi giorni si sono attivate per per dare da mangiare alle oltre 200 persone presenti qua stasera siamo molto contenti della risposta che che abbiamo ottenuto ma che continuiamo a ottenere un po dalla comunità che c'è che c'è intorno e dalle tante persone che supportano i nostri progetti obiettivo della serata sostenere il progetto open house lab grazie all'aiuto fondamentale dei volontari open house lab è un progetto che si propone di promuovere un percorso di crescita per giovani adulti con disabilità e di accompagnarli nel delicato percorso di inserimento nella vita adulta il progetto si attraverso dei laboratori delle attività che vedono l'implementazione lo sviluppo di abilità e di autonomia personale domestica e di abilità e competenze da sfruttare nell'inserimento lavorativo e il progetto appunto consta di vari laboratori e attualmente quelli che abbiamo sono agricoltura orto giardinaggio cura del verde cura degli animali di bassa corte ricezione turistica cucina abbiamo laboratori di art and craft e anche di attività sportiva cosa che quest'estate abbiamo proposto ai nostri ragazzi ed è piaciuta tantissimo e attualmente i ragazzi che frequentano i vari progetti di open house sono 16 e hanno un'età che va dai 16 ai 27 anni e durante l'anno scolastico abbiamo accolto una decina di ragazzi di studenti per l'alternanza scuola lavoro e il progetto di open house è all'intento quello di aumentare e offrire una gamma sempre maggiore di proposte per i giovani con disabilità al fine proprio di aumentare le loro abilità e di poterli inserire in un contesto lavorativo e anche proprio all'interno della società più che dare noi riceviamo veramente molto riceviamo molto perché loro ci danno un'energia incredibile io quando quando non ci sono mi manca mi manca proprio completa la mia esistenza qui noi siamo circa 20 25 non so aumentiamo continuamente e siamo una grande famiglia siamo una famiglia senza pregiudizi dove ci sosteniamo siamo condividiamo le scelte e quindi tutti quanti questo questo a posto questo tipo di struttura ci rende veramente piene di energia e quindi il volontariato soprattutto non è il dare e ricevere un esempio concreto di welfare grazie alla sinergia tra pubblico e privato un'esperienza di integrazione che è ricadute anche dal punto di vista della coesione sociale importante per l'intera collettività in questo ambiente tutte le volte che ci si viene si sintetizzano tre concetti direi quello della sinergia quindi del lavoro di squadra tra pubblico e privato quindi con il terzo settore e il tema dell'innovazione e direi anche quello dell'opportunità perché davvero in questo ambiente aperto in inclusivo è possibile anche sperimentare percorsi nuovi e percorsi che siano davvero aperti inclusivi verso tutti